Salve a tutti ragazzi, in questo video vediamo il gerundio, ultimo modo verbale che ci manca per concludere appunto con i verbi, con i modi e i tempi verbali, non proprio con i verbi, perché i verbi li vedremo anche in altre cose. Il gerundio quindi vi ho scritto è un modo verbale e ha due tempi, il presente e il passato. Vi ho creato la solita tabella con gli ausiliari essere e avere e poi anche con i tre esempi delle tre coniugazioni, amare, scrivere e dormire, ovviamente parlo dei verbi regolari. Per quanto riguarda l'ausiliare essere, il gerundio presente e passato è essendo ed essendo stato. Vi ricordo che, non l'ho scritto qui ma è semplice da ricordare, che il gerundio passato è formato dal gerundio presente del verbo ausiliare e dal participio passato del verbo che vogliamo utilizzare. Quindi, essere, essendo, essendo stato, avere, avendo, avendo avuto, amare, amando e avendo amato, qui ho scritto dormito perché ero forse un po' io addormentata, però è amato, scrivere, scrivendo, avendo scritto, dormire, dormendo e avendo dormito. Il gerundio presente è utilizzato in proposizioni subordinate, quindi in proposizioni dipendenti da altre, che sono dette, appunto, gerundive. Esempio, discutevamo camminando. Camminando è un gerundio presente che sta per mentre camminavamo, quindi mentre camminavamo discutevamo. Cosa significa? Che quindi camminando è un gerundio presente che ha un valore temporale. Quindi una proposizione gerundiva con valore temporale. Il gerundio presente, però, è utilizzato anche per formare due espressioni particolari usate nella lingua italiana, che sono le espressioni formate da andare più il gerundio di un verbo e dal verbo stare più un gerundio di un verbo. Entrambe queste due espressioni servono per esprimere un'azione che è in progresso, quindi che parte nel momento in cui stiamo parlando e che dura però anche poi nel tempo. Vi ho fatto due esempi molto pratici, anzi tre. Il tempo va migliorando. Questo è l'esempio per quanto riguarda l'espressione andare più gerundio. Il tempo va migliorando. Significa che il tempo migliora, sta migliorando, va migliorando nel tempo, va a migliorare nel tempo. Oppure, per quanto riguarda la formazione verbo stare più gerundio, vi ho fatto l'esempio sto studiando. Cosa stai facendo? Sto studiando. Oppure, cosa stai facendo? Sto spiegando la grammatica italiana. Esprime un'azione che è in progresso, perché la sto compiendo in questo momento, ma anche in futuro la compierò, per cui un'azione che dura nel tempo. Quindi è importante proprio la durata che viene espressa dal gerundio presente. Vi ho scritto una piccola nota. Molti gerundi presenti, che poi non sono tantissimi, perché io non è che ne sappia tanti, sono stati sostantivati. Che cosa significa? Che vengono occasionalmente trasformati anche in sostantivi, in nomi. Ad esempio, un gerundio che è molto utilizzato come sostantivo, come nome, è laureando. Chi è il laureando? Che cos'è il laureando? Il laureando è colui che si sta per laureare. Io mi sono laureata ad aprile di quest'anno, ma la mattina del giorno della laurea, prima di discutere la tesi e quindi prima di avere il titolo di studio di laurea, ero una laureanda. Il gerundio passato, invece, non è molto utilizzato e viene spesso sostituito da altre forme. Vi ho scritto così perché il gerundio passato spesso è sostituito da altre espressioni, da altre formazioni nelle frasi e soprattutto per quanto riguarda i verbi. Come esempio vi ho scritto, un esempio molto pratico, Questa frase con più facilità la sentirete dire così È stato promosso perché ha studiato Oppure ha studiato e quindi è stato promosso Quindi in altre forme non viene molto utilizzato il gerundio passato Avendo studiato è un gerundio passato con un valore causale Perché ha studiato Avendo studiato equivale a dire perché ha studiato Quindi ha un valore causale Questo è tutto quello che c'è da sapere, credo, sul gerundio Vi accorgerete poi facendo pratica come è il modo migliore per utilizzarlo parlando l'italiano Vi ricordo i miei contatti che sono il canale di Youtube Quindi questo che state seguendo La pagina Facebook di Sgrammaticando Il profilo Twitter che si chiama sempre Sgrammaticando E vi consiglio come sempre di esercitarvi sul sito www.impariamoitaliano.com Contattatemi per qualsiasi domanda, per qualsiasi tipo di chiarimento Oppure se volete anche prenotare una lezione individuale e personalizzata su Skype Grazie per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti